Ho scelto di parlare del testo più radicale di Marx, che è la questione ebraica, un testo giovanile, che è oggetto di dispute e di grandi divisioni, perché è il testo dove, oltre a attaccare la religione in quanto tale, tema che è secondo me tra i più caduchi della sua elaborazione e che non a caso verrà via via dismesso nel corso del suo sviluppo, Marx si esprime evidenziando la radicale insufficienza della emancipazione attraverso le forme politiche, attraverso le forme istituzionali e l'accusa che una lunga linea interpretativa gli rivolge è che, quasi paradossalmente, Marx appellandosi al superamento di ogni forma di mediazione politica, di ogni forma istituzionale garantita dallo Stato, dei suoi dispositivi e, d'altra parte, evocando un principio che potremmo dire ultrademocratico, cioè di piena realizzazione del principio democratico, a di là di ogni forma istituzionale, in realtà rovesci verso una prospettiva che tende, o può tendere, quasi inevitabilmente, verso il totalitarismo. Quella che dovrebbe essere la condizione di una piena emancipazione, piena realizzazione dell'individuo rischia di capovolgersi, venendo meno ogni elemento di garanzia delle forme politiche in una condizione di riassorbimento che può esporsi a ogni forma di annichidimento della individualità. Ecco, io vorrei cercare di dire che, in effetti, in questo testo giovanile si agita anche un principio, diciamo così, metapolitico, che può favorire anche un approdo di questo tipo, in particolare per quanto riguarda l'immagine di una unità originaria del genere umano che deve essere riconquistata, ma che non sia soltanto questo. Cioè, proporrò un tentativo di lettura dinamica, diciamo così, di questo testo, come un testo di trapasso rispetto ad un'altra successiva fase che, diciamo, sollecita a, diciamo, più che abolire ogni forma di mediazione politica e storica, ad innalzarne il livello, a renderlo insieme più complesso e più in grado di, diciamo così, ricomporre una dimensione piena della socialità e dunque anche della dimensione individuale. Questo ragionamento tocca da vicino anche una questione, diciamo, teorico-storiografica più generale che riguarda la maniera in cui si periodizza, si articola il pensiero di Marx. Un grande filosofo francese, lui, Althusser, ha sostenuto che in sostanza vi siano due Marx, un Marx che precede il lavoro attestato sulla critica dell'economia politica e quindi sull'analisi delle forme concrete del modo di produzione capitalistico e che è ancora pregno di residui speculativi, filosofici, umanistici sovrabbondanti e che invece poi, appunto, ci sia questo bagno di maggiore capacità analitica rispetto alle strutture reali. Ecco, io cercherò di alludere al fatto che se c'è un elemento di verità in questa interpretazione, cioè il fatto che via via lo sviluppo del pensiero marxiano dismette alcuni elementi, d'altra parte è anche vero che alcuni elementi residui di umanismo, poi vedremo in che senso, rimangono anche nel Marx maturo e d'altra parte, già in un'opera giovanile come la questione ebraica, noi possiamo cogliere i germi di una spinta dinamica a superare alcuni limiti di riflessione. Jürgenfraghe è un testo composto nel 1843, esce nel 44 su un numero unico di una rivista che si chiama Anna di Franco-Tedeschi, che Marx dirige e fonda insieme a un altro che si chiama Ruge, che è un ex-giovane gheliano, divenuto poi molto allegato alle idee di Proudhon. Ma è un numero sul quale scriveranno, oltre che a lui e a Engels, molti altri, tra cui possiamo citare i nomi del grande poeta tedesco Heine e Moses Sess, fondatore dello stesso esperienza sionista. È un testo dove troviamo esposte molte delle tesi della più ampia critica alla filosofia egrediana del diritto e dove, come nell'altro scritto, assistiamo alla messa all'opera del nesso fra scissione e contraddizione, tra Spaltung, si dice in tedesco, e Widerspruch, nei termini della specifica obiettivo reale data dalla relazione tra Stato e società civile. tale redazione, ma anche scissione, si proietterà direttamente nella distinzione tra due livelli che stanno dentro l'uomo moderno, nella sua realtà. Da un lato il bourgeois, cioè l'individuo proprietario, o che attende, diciamo così, comunque a farsi una proprietà, e dall'altro il citoyen, notate bene che lui utilizza il lessico tratto dal costituzionalismo francese, e lo usa proprio in francese, cioè tra il membro della società civile e invece il cittadino di cui si affermano i diritti nelle carte e nelle leggi, ma che di fatto non è altro che la contraffazione sul piano formale, in quanto soggetto generale, portatore e referente di diritti politici, di quella prima figura del partecipe della società civile, cioè sostanzialmente del mercante, dell'uomo con proprietà che scambia sul mercato. L'ampliarsi di una simile contraddizione tra questi due lati inneschierà per Marx una vera e propria, lui dice, zersatzung, una vera e propria scomposizione della dimensione umana. L'occasione di una peculiar riflessione su questo argomento è fornita dagli scritti di un autore della sinistra egediana che si chiama Bruno Bauer. Bruno Bauer è un autore che appunto scrive dei testi, tra l'altro nel 42 e nel 43, che si chiamano uno, come il testo di Marx, la questione eubraica, e l'altro si chiama la capacità degli ebrei e dei cristiani di diventare liberi, che, come dire, sostengono di fatto una tesi fondamentale. Cioè il fatto che gli stati che di fronte a una situazione di discriminazione oggettiva di alcune minoranze, lui parla per esempio degli ebrei nella situazione della Prussia di allora, le leggi statuali non sono conformi alla loro ispirazione. Lo Stato politico liberale, che pure dovrebbe garantire i diritti di tutti, in realtà non lo fa. In realtà non dà alle minoranze i loro diritti. Così facendo, non essendo pienamente uno Stato laico, dice Bauer, che cosa accade? Accade che non si può arrivare neppure all'obiettivo che tutta la sinistra egediana si pone, cioè quello del superamento della religione. Questi sono personaggi che, in questa fase, intendono la religione come una forma di alienazione, poi torneremo su questo, di oggettivazione dell'uomo che lo coarta e che gli fa rinviare, nella dimensione di un regno celeste, le possibilità di emancipazione rispetto al regno terreno. Che cosa, in sostanza, Bauer dice che bisogna fare? Dice che bisogna portare fino in fondo le idee della rivoluzione francese e del liberalismo politico. A quel punto, quando si saranno affermati pienamente quei principi universalistici e si sarà dato agli ebrei come ai cristiani i pari diritti di esercizio delle libertà politiche, a quel punto anche le ragioni di quelle differenze di identità verranno meno. Una volta riconosciute, ci sarà un processo di integrale laicizzazione. Ecco, Marx procede in una direzione molto diversa. Ciò è resa evidente proprio dalla esibita diversità nell'affrontare il problema ebraico. Bauer lo tratta prospettando un certo compito dello Stato e agganciandosi ai contenuti del dibattito entro la Camera dei Deputati Francesi del 840 e Marx dice La Francia ha affrontato, a parere di Bauer, lo spettacolo di una vita che è libera, ma che revoca la propria libertà nella legge, quindi anche la dichiara un'apparenza e, d'altra parte, confuta la sua legge mediante l'azione. Marx esprime un punto di vista diverso perché insiste sulla insufficienza del livello dell'emancipazione strettamente politico-istituzionale, che è invece il perno su cui il ragionamento del suo interlocutore si fonda. Egli intende dimostrare come il liberalismo radicale, interpretato dalla sinistra igeriana, confonda la libertà giuridica e l'apparato del diritto con la libertà umana e sovrapponga i due piani, troppo direttamente. Dunque, data l'assetto di Dominio Borghese, finisce per scambiare la libertà umana stessa con il diritto umano, con il menschrecht, ritagliando sul diritto di proprietà ogni generale principio di emancipazione. Ogni posizione di principio del liberalismo è destinata dunque a rovesciare nel suo contrario. Il centro della polemica marxiana, nella Judenfrage, era plasmato, insomma, sulla critica dei diritti dell'uomo e del cittadino entro le Costituzioni Borghese. La libertà contemplata nelle dichiarazioni dei diritti del 1791, ma lo stesso vale per la Costituzione giacobina del 1793, cioè quella consistente nel poter fare tutto quello che non nuoce agli altri, non è che l'espressione, dice Marx, di una sorta di libertà negativa. È la libertà di una monade ripiegata su se stessa, già che non pare fondata sulla condizione di una traguardata relazione dialettica, su una condizione di riconoscimento, di interdizionale, di pendenza reciproca, di vicendevole mediazione, bensì di isolamento dell'individuo atomizzato. La libertà è la libertà dell'individuo separato. L'eguaglianza è l'estensione formale di essa, che la eleva a principio universale, fino a farne un concetto di polizia, gli dice, cioè l'affermazione del principio per cui l'intera società esiste unicamente per garantire a ciascuno dei suoi membri la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e della sua proprietà. Nessuno dei diritti dell'uomo, insomma, va al di là della figura dell'uomo egoistico, appartenente alla società civile. Si tratta di diritti asociali, che contrappongono implicitamente l'individuo, con i suoi interessi ed arbitri privati, alla comunità. I diritti dell'uomo si traducono nei meri diritti borghesi e sul piano formale vi coincidono. I primi si rivelano la proiezione dei secondi. La società si riduce a cornice esterna degli individui, a limitazione della loro indipendenza originaria. Insieme al complesso dei diritti dell'uomo, Marx sottopone a critica l'altro pilastro della società liberale, cioè il momento della rappresentanza politica. esso si riduce, nella società borghese, a fattore non solo insufficiente, ma incline a, potremmo dire, ipostatizzare, cioè a prendere una parte e dilatarla, farne un assoluto, a ipostatizzare le idee espresse dall'universalismo liberale. In questa logica, che tende a cristallizzare l'individuo egoistico, si spiega il tentativo baueriano di risolvere la questione ebraica in termini di mera emancipazione istituzionale. Cominciamo a vedere un po' meglio come si articoli il libro. Il libro si... il saggio. Il saggio si articola in due parti. Una, giustifica le ragioni di questa insufficienza dell'emancipazione politica istituzionale. e la necessità di intervenire per la trasformazione della società civile. La seconda parte, invece, si occupa di come, nello specifico, ci si può muovere in questa direzione. Teniamo presente che la distinzione fra Stato e società civile è filtrata in Marx fino però a compiere un capovolgimento nel contrapporre i due piani da Hegel. Nella sua Rechtphilosophie, nella sua filosofia del diritto, che ha diverse versioni, secondo diverse lezioni che Hegel fa, il grande filosofo aveva visto nella società civile il campo, lui dice, della disorganizzazione, della disorganizzazione, cioè della singolarità dei bisogni, i quali pure già si rivelano però presi in un sistema di interdipendenza. Cos'è che dà questa interdipendenza? Il fatto che anche se ci sono degli atomi delle proprietà isolate, queste devono scambiarsi sul mercato. E non solo. Tutti gli individui sono stretti da una comune cooperazione che è quella comportata dalla divisione del lavoro. Questa è un'idea tratta dagli economisti classici, economia politica classica, che Hegel legge prima di Marx. E non solo. Hegel vede già comunque nell'alveo della società civile, nel suo corpo, il crescere di alcune organizzazioni germinali che sono quelle che lui chiama standard, cioè le corporazioni, le forme di organizzazione professionale eccettuale del lavoro, che, come dire, già costituiscono un livello di aggancio verso lo Stato. Nella sovranità politica la mediazione tra queste singolarità si compie, è compiuta, si realizza il fine dell'intero che è poi coincidente con la struttualità. Ora, Marx invece cosa fa? Rovescia il gioco, cioè dice non c'è una via di superamento, un nesso di intreccio tra questi livelli nella morfologia capitalistica, vi è una scissione polare tra Stato e società civile. Questo, in questa fase, perché poi quando lui comincia poi a esaminarne la fisiologia di questa società civile e quindi a considerare l'organizzazione del mercato, della divisione del lavoro da vicino, l'idea che ne trae è diciamo così che i meccanismi del potere politico poi si diffondono molto di più nelle articolazioni specifiche della società capitalistica. Ma insomma, stiamo stando all'albero della Judenfrage Marx gioca la critica della religione per mettere in chiaro i limiti e le contraddizioni interne, le asimmetrie dello Stato politico rispetto alla società civile. Così come egli dice negli Stati Uniti d'America è data la libertà delle confessioni religiose ma non la libertà dalla religione, lo Stato politico di impianto costituzionale liberale sopprime superficialmente sul piano della costituzione giuridica tramite il momento istituzionale la proprietà privata e quindi la condizione isolata in cui insiste la società civile affermando l'eguaglianza della libertà e dei diritti dei cittadini ma non rimuove anzi conserva e anzi crea le condizioni vorrei dire per preservare le differenze di censo e la struttura di classe una volta messa a fuoco questa polarità tra Stato e società civile egli ne coglie il riflesso nella scissione resa opaca dalla unificazione puramente formale compiuta dall'apparato legislativo fra le altre due figure che vi ramentavo quella del borghese e quella del cittadino in ciò Marx riprende un modulo concettuale di radice russoiana e mostra come l'una si è risvolto dell'altra egli parla persino della doppia vita dell'individuo tale però che la figura della cittadinanza da un lato eleva ad universalità l'individuo mercante e dall'altro copre occulta l'ascissione e il contrasto che in cui l'individuo mercante l'individuo isolato insiste rispetto all'effettiva universalità del genere umano la figura del citoyen del cittadino dello Stato si rivela tendenzialmente fittizia ed illusoria la vita reale sul piano dello svolgimento storico effettuale vede il prevalere del borghese e questa è la ragione della insufficienza dell'emancipazione politica di cui del resto si riprova guardando alla e gli dice ristrettezza della partecipazione politica cioè il fatto che intanto poi parliamo di una condizione in cui c'era ancora il voto di censo e non c'era il suffragio universale pochi vanno a votare e comunque vengono convocati una volta ogni tot ma non c'è una partecipazione attiva bisognerà dire che anche grazie al contributo di Marx poi per fortuna le cose cambieranno molto comunque qual è il punto di caduta del suo ragionamento è il fatto che a fronte di questa dimensione della scissione interna l'individuo moderno occorrerebbe recuperare riappropriare il genere umano veniva citato ieri il Gattungswesen cioè il genere umano come ente generico come una dimensione diciamo che è priva di ulteriori determinazioni appare come una dimensione naturale lo stato politico dice Marx eleva l'uomo effettivo ad ente estraneo a Fremdenwesen e così e conciò occulta la scissione che riduce l'individuo a mero atomo isolato e lo rende incidente solo in quanto tale e qui incontriamo il problema che poi accompagnerà Marx della estraneazione dell'alienazione si affaccia però anche un superamè un elemento di superamento dell'albero da cui lui prende quest'idea di alienazione cioè quello della sinistra eghediana perché qui lui non limita gli elementi di cortanti e come dire estraneanti dell'individuo al campo religioso ma cerca di andare al fondo cioè alla organizzazione dei rapporti sociali a differenza di quello che aveva fatto Feuerbach per Marx l'unica compiuta emancipazione degli ebrei per esempio consisterebbe nell'intervenire sulla società civile in modo da destituire gli dice il giudaismo pratico cioè il ruolo del denaro l'isolamento del livello mercantino e permettendo di autodissolvere la mentalità che presiede a quella identità in favore del genere umano e del suo primato ora è interessante notare come nella Jugendfrage si abbia l'unico riferimento compiuto da Marx ne fa un altro nella Sacra Famiglia ma è molto poco incidente a un grande quel grande analista dei mutamenti della società a lui contemporanea o quasi contemporanea che è Tocqueville Tocqueville in un'opera che esce tra il 35 e il 1835 e il 1840 la democrazia in America cerca di dare una prospettiva su come stanno cambiando le cose Marx certamente lo legge anche se qui lo cita attraverso un romanziere che parla di cose americane che si chiama De Bramont ora loro due hanno una giudizio molto diverso su quello che è il meccanismo formale della democrazia nel senso che se per Tocqueville questa affermazione di diritti universali che mantiene un elemento fittizio è comunque il motore di un principio di mobilità sociale che rischia di versare verso l'appiattimento ma che ha anche un suo portato di progresso quindi mentre questo dispositivo ideologico del costituzionalismo liberale assolve ha un ruolo di stimolo sociale per Marx e qui si colloca in senso strategico un dispositivo di dominio potremmo non ve ne è il tempo ma far vedere dimostrare che in qualche modo una posizione come quella che verrà incarnata da Antonio Gramsci superi questa alternativa porterai l'attenzione sul fatto che è bene ricordare come oltre ai testi di Bauer oltre al tema dell'unità organica di società civile società politica che viene ripresa da Hegel e spezzata il bersaglio di Marx sia Rousseau e con lui la base contrattualistica dell'eguaglianza giuridica affermata dalla statualità borghese in particolare Marx richiama un lungo capitolo del contratto sociale di Rousseau e stigmatizza come già aveva fatto Hegel la strattezza della possibilità di ridurre la società a un contratto tra diciamo individui isolati poi l'altro referente di attacco sono le dichiarazioni dei diritti dell'uomo già ricordate del 91 e del 93 le costituzioni francesi del 93 e del 95 e poi le costituzioni alcune delle costituzioni americane queste costituzioni dice Marx aboliscono solo apparentemente la proprietà privata con l'istaurarsi dell'eguaglianza formale ma recano in loro stesse il contrapasso rispetto a ciò facendo coincidere la libertà con il momento sacro e invionabile della difesa della proprietà stessa il centro della critica dell'eguaglianza politica marxiana attena alla denuncia del particolarismo che sorregge il paradigma dell'universalismo liberale sino a mettere a fuoco l'ascissione interna dell'apparato giuridico della cittadinanza democratica l'ascissione fra forma giuridica e contenuto sociale che vige in quanto reagente dell'apparato ideologico politico di cui lo Stato liberale si fa carico rispetto allo Stato cettuale dell'anziano regime quello compiuto a merce e borghese assolve certo al merito di introdurre il problema storico dell'eguaglianza ma al contempo ne impedisce la realizzazione attraverso il gioco dissimulante dovuto all'isolamento della sfera giuridico politica il quale risulta in grado di occultare la disuguaglianza e le logiche gerarchiche che sono anzi in via di inasprimento anzitutto sul piano materiale l'affermazione della formale eguaglianza dei disuguali ne rende opaco lo statuto sociale lo invera e tende persino a neutralizzare la spinta emancipativa centrata sull'apparente conciliazione dell'individuo con il tutto il problema dell'eguaglianza è capovolto nel suo contrario e ciò neutralizza tendenzialmente anche i margini della piena realizzazione dell'individuo in quanto membro del genere umano in definitivo quel che fa problema è la cristallizzazione dei diritti giuridicamente sanciti in quanto paradossale garanzia della mancata applicazione effettiva della loro concreta universalità è per questo che Marx rimarca l'eroneità di ogni orientamento volta ad elevare il momento dell'emancipazione politica a grimaldello risolutore e qui diciamo incontriamo un problema che posso solo sintetizzare così questa mediazione politica a cui afferma l'affermazione formale dei diritti è una mediazione compiuta se noi andiamo a vedere la critica che Hegel prima di Marx compie rispetto a ogni forma di lui dice astrattezza sta nel fatto che essa consiste in una mediazione soltanto puntuale nel fatto che i momenti di conciliazione della realtà sono affidati soltanto a aspetti singolari il denaro il contratto e non vi è non si perde di vista il compimento del tutto ora in qualche maniera sia pure rivendicando il fatto che nella società moderna non vi è il raggiungimento di quella mediazione compiuta che invece Hegel come dire vede in qualche maniera realizzata nella monarchia costituzionale il problema di Marx è lo stesso cioè il fatto che io non posso ridurre l'insieme delle mediazioni storico-sociali che percorrono la realtà in un punto cioè quello delle mediazioni puramente istituzionali e questo costituisce a mio parere l'aspetto dinamico del testo insieme a questo bisogna ricordare che c'è un altro grande aspetto diciamo ereditato da Hegel che lui riprende cioè il fatto che lui dice Hegel dice il rapporto tra società civile e Stato è esattamente il rapporto tra intelletto e ragione mentre l'intelletto cosa fa separa determina le diverse nozioni la ragione le ricomprende in un nesso costitutivo ecco lui dice questa questa riconquista di nessi complessivi non si attua nella società borghese tra l'altro in questo lui diciamo così cambia anche opinione già in questo testo rispetto a quello che aveva sostenuto in testi di poco precedente dice Marx lo stato politico si comporta nei confronti della società civile in modo altrettanto spiritualistico come il cielo nei confronti della terra rispetto ad essa si trova nel medesimo contrasto e la vince nel medesimo modo in cui la religione vince la limitatezza del mondo profano cioè dovendo insieme riconoscerla restaurarla e lasciarla da essa dominare in sostanza che cosa vuole dire Marx vuole dire che il momento formale ed astratto quando viene elevato a fattore che occulta e rende opaco il sistema effettivo del dominio dei rapporti di forza realmente cogenti nella società finisce per riassumere acriticamente la stessa empiria lo stesso elemento di dato in sé della realtà alla fine restaurazione dell'empiria in sé e universalità astratta arrivano a coincidere sottolineerei il fatto che il tema dell'alienazione è molto presente in Marx i temmi che è molto presente in questo testo marxiano tutti i principali temmi che lo designano verauserung entfremnung entauserung sono presenti nello scritto in esso per esempio leggiamo la rappresentazione fantastica il sogno il postulato del cristianesimo l'uomo sovrano ma in quanto ente estraneo distinto dall'uomo effettivo diventa nella democrazia la realtà il presente la norma mondana ne viene che l'uomo moderno è scisso in due lati entrambi estraneati alienati in quanto membro della società civile l'individuo è uomo dice guastato perduto alienato verauser appunto attraverso l'intera organizzazione della nostra società ma altrettanto alienato è l'uomo sovrano il cittadino che irrigidisce la figura di ente estraneo scisso dalla sua concretezza l'alienazione insiste sia sul lanto della società civile la quale in effetti prevale che su quello della partecipazione allo stato politico esso non solo coinvolge questi due aspetti ma vi coincide designando la polarità tra l'individuo egoistico e la astratta personalità morale si tratta quindi di superare l'alienazione cioè di porsi oltre la scissione in questione che coincide con il suo nucleo scaturente occorre cioè raccogliere nella soggettività reale la strato cittadino riarticolare l'insieme delle forze sociali occorre arrivare a un livello di ricomposizione per cui la forza sociali e le forze sociali e politiche vengano a essere completamente intrecciate d'altra parte l'alienazione coincide con l'estraneazione dalle forze sociali appartenenti alla stessa unità del genere umano come noto e come già richiamato nell'immagine che Marx suggerisce puntando a ricomporre l'unità del genere agisce la specifica influenza del paradigma di Feuerbach per cui la vita si rende emancipabile dalla sua materialità ripristinandone proprio una presunta unità organica originaria una dimensione antropologica naturale questa si riprodurrà anche quando Marx allude al comunismo il regno della libertà dopo il regno della necessità c'è anche un eco che viene da Schiller da un regno della libertà come me lo gioco tuttavia questo a mio parere è solo un aspetto del discorso Marx lascia intravedere infatti anche la via di una ricomposizione del genere umano più coerente con il paradigma gheliano cioè guardando adesso non per così dire come ad un presupposto da recuperare ma come ad un possibile risultato processuale ci chiamo e su questo mi avvierei a chiudere di verificarlo tentando tenendo insieme la complessità e la pluralità degli aspetti del testo bisogna aver chiaro che nella ricostruzione che il testo propone il centro del insomma qui il discorso si farebbe si farebbe lungo perché lo salto perché attiene al fatto che diciamo come cambiano le cose dalla medioevo alla modernità e dalla situazione in cui lo Stato coincide con il patrimonio del sovrano ha uno strato più articolato limitiamoci a evidenziare come il recupero della vita generica dell'uomo e il duplicarsi della vita stessa che si attua nella società borghese in corrispondenza alla bidimensionalità dello Stato e della società civile si diano la mano e come però il discorso sporga al di là di una prospettiva di mera dissoluzione della politica in questo senso io credo sia utile citare un breve brano del testo dice Marx lo Stato politico perfetto è per sua essenza la vita generica dell'uomo in opposizione alla sua vita materiale tutti i presupposti di questa vita egoistica continuano a sussistere al di fuori della sfera dello Stato nella società civile ma come caratteristiche della società civile là dove lo Stato politico ha raggiunto il suo vero sviluppo l'uomo conduce non soltanto nel pensiero nella coscienza ma insieme nella realtà nella vita una doppia vita avevo già alluso a questo tema certo qui lo Stato politico è visto come dimensione in grado di astrare dalla materialità della società lo Stato nella sua separatezza acclara il persistere cogente di conflitti o venti di disuguaglianza e da ciò e per come qui Marx argomenta la propria tesi si può dedurre l'esigenza di spezzare la gabbia istituzionale tuttavia se noi seguiamo anche a fronte delle cose già dette l'impianto integrale del testo è possibile comprendere come a suo centro non vi sia il semplice attacco al cielo della politica bensì il transito dalla mera emancipazione politica alla emancipazione sociale o meglio e più precisamente il passaggio dal ristretto schema giacobino di emancipazione contratto nella presa della bastiglia della macchina politica e magari nella sua interruzione medulato secondo un principio di riconoscimento dei diritti in virtù di canoni e figure storico-ideologiche ridigide dalla appartenenza razziale alla nazione schema sul quale poi insisterà ampiamente il movimento operario anche dopo Marx ad un paradigma emancipativo dotato di maggiore universalità ma anche di un portato di più ricarticolazione circa la ricomposizione tra forze produttive saperi e tecniche scientifiche e del governo sociale la preoccupazione che agita Marx è quella di conferire a tutti i differenziati soggetti sociali gli strumenti del controllo e della regolazione la capacità di decidere e di progettare il loro destino la condizione di reale interdipendenza interna al genere umano di vicendevole connessione della libertà che spiega anche il riemergere del motivo regheliano della saldatura fra mediazione storica e libertà e che poi sarà colto nell'analisi del capitalismo sia pure in forma latente lascia perciò prevalere come dire lo sforzo per cui occorre come dire non fare in modo che la mediazione politica si restringa in un punto sia incompiuta ma conquisti una propria integralità cioè quella dimensione di ricomposizione tra il cittadino e la persona concreta che dicevo se ne può cioè ricavare un'immagine più compiuta della mediazione medesima l'allargamento della mediazione e della realizzazione compiuta dalla democrazia fanno tutt'uno così come Marx pensa per riprendere un'espressione che è stata anche di Lukács una democrazia della vita quotidiana una democrazia in grado di investire ogni momento della vita individuale superando i ristretti i confini dell'appartenenza statuale in favore dell'uomo in grado di riappropriarsi pienamente delle forze sociali ecco così come questo pensiero è il culmine della sua prospettiva già noi lo possiamo vedere al lavoro in questo primo tentativo Marx punta a raggiungere uno sviluppo della modernità democratica della libertà dei moderni tale per cui l'uomo al di là di ogni rigidito schieramento riconosca ed organizzi giusto le sue prende questa espressione dal costituzionalismo francese delle sue force prop come forze sociali e perciò cito può non separare più da sé la forza sociale nella figura della forza politica il problema di Marx dunque non sembra allignare soprattutto sul terreno del restauro di una determinata unità naturale del genere bersi di una compiuta ed integrale conquista del portato di senso della prassi umana del fare umano qui è l'essenza del paradigma emancipativo marxiano e della prospettiva comunista che ne deriva ricomporre cittadino e persona concreta non significa in alcun modo disperdere le funzioni di regolazione centralizzate nel momento statuale attualmente dice Marx separate dalla società civile ma permettere di condurre ad un livello più alto di riclassificarlo in quanto appunto forze proprie dell'attività sociale ciò dunque non conduce necessariamente a dissolvere l'ordine politico in quanto tale in suo margine di possibilità ma a riplasmarlo in un nesso organico rispetto ai saperi alle funzioni che strutturano molecolarmente le forme della riproduzione e della garanzia della vita abbiamo che fare dunque più che con il ripristino di una unità presupposta con un risultato possibile ovvero il compimento della mediazione che il principio democratico a livello puramente istituzionale esprimeva soltanto in maniera imperfetta in maniera embrionale il principio emancipativo marxiano fa corpo inestricabilmente dunque con la stessa costituzione dei soggetti delle forme di riproduzione della vita nel resto nella questione ebraica non si disconosce il ruolo relativo dell'emancipazione politica il radicalismo di marx sollecita se così lo possiamo chiamare sollecita a far avanzare una più alta sintesi fra storia politica conoscenza e vita come come area condizione dell'emancipazione umana e se coincide in definitiva con la compiuta e collettiva presa di consapevolezza per cui il momento che Marx che Hegel aveva chiamato della realtà come Birkley Kite come realtà fatta che non precede il fare umano diversamente dalla realitate che invece è proprio la realtà un po' isolata messa di così come proprio questa dimensione sia la radice della libertà e che si tratta quindi di appropriarsi della dimensione squisitamente storica della libertà stessa essa ripugna venere chiusa in schemi normativi di superficie questo è un altro punto importante cioè il fatto che la norma stessa può diventare feticcio la norma stessa può diventare fattore alienante nella sua capacità di occultamento o e senza essere concentrata in un'accezione isolata delle facoltà individuali in questo senso possiamo dire che una compiuta libertà scaturisce dalla piena consapevolezza della necessità storica appropriarsi della dimensione squisitamente storico-sociale significa avvolgere lo sguardo verso l'intero genere umano non tante non solo come riferente di ripristino di una naturalità primigena ma di una soggettività storica in cui dispiegamento domanda di oltrepassare i confini rigidi della statualità per acquisire a pieno i meccanismi complessivi del governo sociale per farli per fluidificarli per esprimerne a pieno la ricchezza lo schema marxiano allune insomma ad un progetto di emancipazione non imbozzolato nei confini della sovranità politica classica l'eredità che la Jungen che ci consegna consiste dunque nel farci vedere come l'emancipazione non essendo solo politica nel senso solo istituzionale si rivolga non ad unilaterali figure della cittadinanza ma alla totalità della società in cui le forme della cittadinanza si raccolgono all'insieme delle loro differenze a tutti gli uomini e le donne alle pronessioni concrete diverse sollecitandovi e più come poi avverrà nei contributi centrati sulla critica dell'economia politica ad una piena ripresa delle funzioni dirigenti che chiama ad una più vasta riconnessione più larga dei tempi di vita e dei tempi di lavoro mentre una diagnostica come quella di Tocqueville che citavo prima guardava agli movimenti impetuosi della società boroghese soprattutto in Nord America e poi affermati con più fatica nell'alve europeo come l'espressione della corrispondenza tra il diritto all'uguaglianza e la crescita della massa dei bisogni e avverte il pericolo che però questo rovesci in un in una condizione di anomia di livellamento e dunque è invochi l'esigenza di preservare l'individualità l'autonomia riconoscendo il tendere delle masse in movimento verso la socializzazione della politica in quanto spinta interna portante dalla modernità ma denunciandone i limiti Marx dal canto suo legge nel livellamento dovuto al meccanismo dell'emancipazione politica il riemergere del dominio e la mera empiria della figura proprietaria la fiorare della espropriazione dell'individuo nella sua integralità perciò essa è conquistabile solo tramite la piena socializzazione della politica fino al compimento della mediazione che permetta l'organico riconoscimento dei nessi di interdipendenza obiettiva che intercorrono fra gli individui ciò chiama più che a reintegro di un qualche prius del genere umano quanto presupposto naturale a ricomporlo che è una cosa diversa cioè a realizzare fin in fondo in essi che lo legono e a portare a compimento dunque le mediazioni che lo attraversano e lo costituiscono bisogna attraversare l'astratto riflesso dovuto al formalismo dell'emancipazione politica non per recuperare una sorta di cattiva immediatezza dell'individuo o del genere ma per dispiegare le facoltà più pienamente e con questo per arrivare anche a una dimensione della individualità più ricca più creativa ecco io credo che queste siano le ragioni per le quali si debba vedere questo testo in termini come dicevo dinamici d'altra parte non è casuale che nel passare a una fase più matura della propria ricerca Marx riqualifichi in riferimento al genere umano cercando di mostrare quei meccanismi fetticistici sui quali si concentrava il professor Iacono e giungendo a ridislocare la propria problematica sul terreno della critica della stessa scienza positiva dei rapporti sociali borghesi cioè delle misure di naturalizzazione proprie dell'economia politica che cosa significa significa che quei meccanismi di occultamento che erano presenti e riscontrati nella dimensione formale dell'apparato istituzionale sono poi visti invece agire nello specifico dell'economia quando si valutano come uguali coloro che uguali non sono cioè il prestatore della forza lavoro e chi lo compra tenere presente questa continuità ci aiuta a vedere come una volta dismessa l'idea di un recupero naturalistico del genere umano anche il contributo della Jugrenfraghe possa essere ricompreso nella connice di un tentativo potremmo dire di conquista dell'uomo dell'umano cioè dell'unità solidale del genere umano tramite una critica aspra di ogni scambio dell'individuale per l'empirico e dell'universale in quanto e invece di una rivendicazione dell'universalità quanto esito della mediazione reciproca fra i tutti che sono individui questa è la strada che secondo me si può percorrere naturalmente facendo la tara su alcuni indigeribili elementi di radicalità che il testo presenta e guardandolo in una prospettiva più complessiva grazie a tutti